Sicuramente eravamo venuti qua per fare una partita che poteva in certo modo riaggacciarci a una zona di classifica che è un po' distante, sei punti da noi, però penso che sia stata una partita combattuta e siamo contenti anche del punto ma soprattutto della prestazione che abbiamo fatto in trasferta anche perché in questo momento il Pescara che sia una delle squadre più in forma del momento. Molto tattica e con poca fantasia la partita? Sì, siamo venuti qua per cercare soprattutto di non andare in svantaggio perché quando si fa in svantaggio fuori casa è sempre difficile la difesa si è comportata alla grande, siamo riusciti a costruire qualche occasione da gol purtroppo non siamo riusciti a sfruttarla, però è un punto che ci può andare bene in trasferta. È un punto pesante quanto questo? Ma ripeto, dispiace perché con una vittoria magari potevamo riagganciarci proprio direttamente al Pescara però l'importante credo di questo campionato di Serie B è fuori casa di non perdere e muovere sempre la classifica.